Partiranno a breve i lavori di riqualificazione al circuito Marconi di Fano grazie a 210 mila euro ottenuti dal Coni a fondo perduto tramite il fondo sport e periferie. I lavori renderanno necessaria la chiusura dell'impianto per circa tre settimane in quanto l'intera aria sarà un cantiere aperto in quanto sono previsti scavi della profondità di 50 centimetri per una corretta bonifica del fondo che nel corso degli anni ha subito l'usura nel tempo. Nello specifico la riqualificazione riguarderà la cordolatura esterna, sistemazione dell'asfalto ammalorato e la sistemazione della ricinzione e della vegetazione. I lavori sono stati condivisi con le società che utilizzano l'impianto in particolare con la società ciclistica Alma Juentus che ha collaborato nella realizzazione del progetto. È un circuito che va preservato perché chi si intende di bicicletta lo nota che il fondo un'invernata con la neve non lo potrebbe superare perché poi se si creano delle crepe c'è un problema anche di sicurezza. Sono lavori che attendevamo da tempo, era un finanziamento che abbiamo ottenuto dal CONI che per il futuro mette in sicurezza la pista per almeno 20 anni. Il circuito Marconi lo conoscete tutti nella zona più bella di Fano, la zona sportiva della trave. Sicuramente ci sarà un disagio di almeno tre settimane quindi invitiamo tutti a trovare che location per correre e ricordiamo che invece gli allenamenti del baseball e dell'atletica sono garantiti dai due passaggi. L'ingresso del circolo tennis verrà chiuso nel momento in cui tutta l'area diventa un cantiere c'è un tema anche di sicurezza. Secondo l'assessore l'intervento andrà a preservare la pista per altri 20 anni mentre nel contesto del lavoro di asfaltatura il gestore Fano più sport provvederà alla sostituzione dei lampioni non funzionanti.